L'Italia siamo noi, le piccole e medie imprese tra appalti, concorrenza e PNRR. Questo è il titolo scelto per accompagnare l'evento tenutosi a Roma presso il Best Western Plus Hotel Universo, organizzazione a cura dell'Unione Consorsi Stabili Italiani intenzionata a fare il punto sulla funzione che le PMI svolgono nel sistema degli appalti pubblici. Pensiamo che la soluzione sia quella di consentirgli di entrare direttamente sul mercato attraverso delle forme di aggregazione che ci sono, che già funzionano, ma che sono messe a rischio dal nuovo codice degli appalti che in questi giorni sta per essere approvato e da alcune sentenze del Consiglio di Stato che mettono un po' in discussione alcuni principi fondamentali dell'Istituto del Consorzio Stabile. In seguito alla Recovery Fund e alla Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza resta fondamentale cercare di garantire il rispetto del principio di concorrenza al centro della dibattito, il tema di Consorsi Stabili, oggi l'unico strumento pro-concorrenziale di accesso alle procedure di evidenza pubblica per le PMI vero motore produttivo del Paese. Siamo coscienti che il nostro Paese è fatto di piccole e medie imprese e anche molto spesso di micro imprese. Per cui per me l'apertura al mercato è anche questo, cioè far lavorare tutte le imprese che abbiamo sul nostro Stato italiano. Abbiamo un problema di burocrazia difensiva, di paura della firma e con la riforma dell'abuso d'ufficio cercheremo di porre rimedio come tanti sindaci senza appartenenza politica ci chiedono, di intervenire sul traffico di influenza per renderlo un po' più certificato e soprattutto valutare ovviamente sul quadrante dei controlli contabili anche certe forme di colpa grave se in qualche maniera possano essere rese un pochino più certe. Le piccole e medie imprese vengono considerate la spina dorsale dell'economia viste le loro competenze altamente specialistiche e la presenza capillare sul territorio. Tutto questo va a fornire un contributo fondamentale all'occupazione e alla pilla del Paese. C'è da dire che forse questo nuovo codice non coglie nel segno di tutto quello che anche dalla comunità europea ci viene richiesto e cioè di esaltare il ruolo delle PMI. La priorità è una, introdurre interventi legislativi efficaci, interventi possibilmente accompagnati da scelte chiare che consentano ai comparti produttivi di rimettersi pienamente in acreggiata così da sostenere l'Italia nei programmi di efficientamento e modernizzazione delle infrastrutture realizzabili con i fondi del PNRR.